L'abolizione del proibizionismo non vi avrà fatto troppo piacere. La fine dei tempi d'oro. Beh, non ci fece piacere, ma non era poi così male. Alla fine presi in moglie Sara e ci nacque una figlia. Fu un bel periodo. Gli affari andavano a gonfie vele. Avevamo fatto molti soldi durante il proibizionismo. E li avevamo investiti in altre attività. Molte erano legali. Avevamo normali ditte di costruzioni, di trasporti, ristoranti. Gestivamo i sindacati. Poi ovviamente c'erano le bische, le scommesse, le lotterie. Ce la passavamo davvero bene. Cercamo solo di evitare la droga. Anche se non sempre era facile. Andiamo, gli affari sono affari. Ma qui si sbaglia. Quelli di Cosa Nostra non sono messicani o cinesi. Le droghe fruttano grosse somme, ma creano guai ancora più grossi. Quando uno ha problemi con gli sbirri per colpa della droga, fa l'unica cosa sensata. Lo ammette. Se la famiglia lo becca, lo fa fuori. Le droghe sono tabù. Cos'è? C'è una specie di corte suprema che vigila e giudica? Una roba del genere. Le famiglie più potenti scelgono un capo dei capi. Discutono i problemi più seri e stabiliscono le regole del gioco. Quindi i criminali che infrangono la legge hanno i propri tribunali e li giudicano? Ma è pazzesco. Le leggi non sono cose sacre e immutabili. Ogni tribunale del mondo ha le proprie. Sono solo l'espressione della volontà di chi dettiene il potere. Dipende da ciascuno di noi se applicare ciecamente la volontà di qualcun altro oppure la nostra. Perché il Don avrebbe dovuto andare dentro? La mafia aveva superato il proibizionismo con le sue leggi. Un pugno di emigranti siciliani, poveri e ignoranti. Erano più forti delle leggi e dei tribunali degli Stati Uniti. C'è da pensarci? Sì, con l'omicidio. Col dolore che hanno provocato. Oh, andiamo. Lei crede che la mafia uccida solo gli innocenti? La mafia punisce chi non rispetta le leggi. Anche la maggior parte delle vostre. Purtroppo non possiamo mettere tutti in galera o dargli la multa. Tutti quelli che lavorano per noi sanno cosa li aspetta se infrangono le regole. Le persone mentono e imbrogliano e ci sono un sacco di criminali che ci godono a derubare la mafia. Oltre ai mafiosi a cui piace avere la consapevolezza di avere fregato lo Stato. E che mi dici di protezioni, furti, rapina? Neanche i poliziotti sono dei santi. Nessun capomafia incoraggia i suoi uomini ad aggredire la gente. E quello che fanno gli altri in privato non è affar nostro. Quanto alla protezione, molti vanno spontaneamente dal Don in cerca di aiuto e di consiglio. E pagano volentieri per questo. Il Don è una persona stimata, ma non tutti sono come salieri. Questa è la verità. Oh sì, certo. Il vostro sistema funziona, ma sai perché? Perché siete una massa di assassini egoisti. L'unica cosa che vi importa è il tornaconto. Tutti gli sforzi servono solo per permettervi di vivere come porci nell'etame. Ecco perché avete successo, non badate che a voi stessi. Noi ci occupiamo di tutti quanti. Pochi agenti devono assicurare la legge e l'ordine per tutti. E questo è molto più difficile. Questo è vero. Ma potete fare tranquillamente a meno di proteggere il Don. Sa badare a se stesso. E tu allora? Che ci fai seduto qui? Che ci fai seduto qui?